Amici di Donde Libera TV siamo a Fano nella sede Ampi della sezione Le Dantinori. Siamo con il presidente dell'Ampi Paolo Pagnoni e con Giancarlo Carlini che è il curatore della mostra Cuba Allegre Como Su Sol. Una raccolta di serigrafie originali prese direttamente da Cuba sulla quale poi ci illustrerà meglio. Allora Pagnoni, intanto siamo nell'ambito della rassegna, una mattina mi sono svegliato, quindi siamo nel settantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo e quest'anno è una rassegna speciale mi sembra. Sì, direi che hai centrato il discorso perché quest'anno si celebra il settantesimo della liberazione, in particolare abbiamo pensato che l'iniziativa meritasse una serie di appuntamenti importanti di qualità e devo dire che quello al quale abbiamo dato vita dal 6 di maggio è veramente un appuntamento straordinario perché per un duplice motivo. Primo perché abbiamo una mostra di manifesti cubani originali che sono straordinari e che invito tutta la cittadinanza a visitare perché abbiamo la possibilità di farlo fino al 15 di maggio. E in secondo luogo perché ha partecipato un docente della Sapienza di Roma, Luciano Vasapollo, che ha tenuto una relazione incredibilmente affascinante sull'economia sudamericana e sulla sostenibilità del socialismo nei paesi dell'America Latina. Giancarlo Carlini, come è nata l'idea di questa mostra? Parlaci un po' di come hai fatto questa raccolta? Perché immagino sarà una raccolta di anni? Effettivamente è una raccolta fatta attraverso gli anni, i numerosi viaggi fatti a Cuba per andare a trovare un mio amico che aveva il bambino in un ospedale a curarsi in un ospedale a Cuba. E passeggiando per i mercatini, diciamo, dei libri usati ho scoperto alcuni manifesti che mi hanno colpito per la loro bellezza, i manifesti di colori, i manifesti molto vivi. Poi raccogliendoli mi sono accorto che avevano soprattutto un'importanza di testimonianza storica. Quindi li ho cercati il più possibile, ne ho fatto una collezione di circa 50 manifesti e quando mi capito l'occasione organizzo delle mostre. La prima delle quali la feci tanti anni fa presso la libreria del manifesto a Roma, Pia Tomacelli. Sono manifesti importanti, soprattutto quelli che a me piacciono in modo particolare, sono quelli legati al Vietnam. Perché il pittore Mederos, che ha disegnato questi manifesti, non ci ha lasciato immagini di sangue curente, ma ha dato l'immagine di un popolo campestre, un popolo contadino, che è stato ingiustamente occupato dagli Stati Uniti, mentre loro facevano una tranquilla vita a creste. Infatti guardando le immagini vediamo delle donne guerrigliere con il mitra appena appena disegnato, che appena appena si vede, mentre loro tranquillamente in mezzo alla giungla sosseggiano del tè. Un bambino che sta su un passeggia a dorso di una mucca. Sono immagini molto belle, che danno appunto questa idea di un popolo ingiustamente occupato dagli Stati Uniti. Poi ci sono immagini, questi manifesti avevano soprattutto un'importanza per la popolazione, cioè volevano rafforzare quelli che erano gli obiettivi della rivoluzione castrista. E quindi il problema dell'istruzione, che era fondamentale. Ci dobbiamo ricordare che lo stesso Che Guevara, quando erano ancora nascosti fra le montagne, fanno un combattimento e l'altro, e lui si preoccupava di insegnare a questi giovani rivoluzionari a leggere e a scrivere. Poi Che Guevara è anche un medico, quindi l'importanza della sanità. Infatti la sanità a Cuba adesso è fra i migliori, diciamo, del mondo. E addirittura abbiamo una mortalità infantile che è la più bassa di tutto il continente. I medici cubani vanno in paesi del Sud America, in Africa, ad aiutare. Quindi l'istruzione, la sanità, il turismo, l'altro aspetto fondamentale. Poi ci sono i manifesti di personaggi storici, come Camilo Cinfuegos, lo stesso Che Guevara, De Cespedes, chiamato il pato della patria, quello combattuto contro gli spagnoli, Frank Paese. Insomma, è una mostra che secondo me vale la pena di visitare, perché questi manifesti, specialmente quelli, diciamo, più storici, credo che siano gli unici in Italia, non esistono altri esemplari. Poi c'è un reparto dedicato completamente al cinema, fra cui c'è il famoso manifesto del film Fragola e Cioccolato, che per la prima volta affronta il tema dell'omosessualità a Cuba, che era un tema molto difficile, perché il popolo cubano è sempre stato un popolo molto macista, ed era difficile introdurre questo tema. Insomma, ci sarebbe molto da dire. Questo che abbiamo alle spalle è un calendario storico formato da dieci manifesti, che mesi, un accanto all'altro, formano la parola rivoluzione, e ogni anno rappresentano un evento importante di quell'anno. Insomma, dovrebbero analizzare di uno per uno, guardare di uno per uno, per rendersi conto dell'importanza proprio storica di questi, quindi del Viettman risacrono tutto nel 1971. Quindi è una testimonianza storica che, per i giovani, che forse non sanno nulla... Sono aspetti che non sempre vengono divulgati... Sfidi giovani a sapere chi è Camillo Cinfuegos o Frank Paese. E quindi, anch'io faccio l'invito, come il Presidente Paolo, a visitare questa mostra, che insomma, credo che ne valga proprio la pena. È una mostra ultimata oppure è ancora in itinere? Cioè la stai incrementando ancora? Beh, ci ho avuto altre proposte di farle, però sinceramente ci sto riflettendo. No, ma io dico, aggiungerai altri pezzi? Stai aggiungendo altri pezzi oppure... No, 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 questa è completa, questa è completa. Sì, sì, questi sono tutti i pezzi che c'erano, tranne due e tre, non ho avuto spazio in macchina per portarli. Bene, complimenti per questa iniziativa veramente unica e davvero emozionante, diciamo, da un certo punto di vista. Vogliamo ricordare le date di apertura di questa mostra? Le date le abbiamo inaugurate il 6 di maggio e rimane visitabili fino al 15 di maggio. Gli orari di apertura della mostra sono sia dal mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19, sabato e domenica compresi. Amici di Onda Libera, un saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.